Giulia Delellis e Andrea Damante sono stati avvistati insieme da alcuni fan che li hanno immediatamente filmati. Alcuni amori fanno giri immensi e poi ritornano. Che possa essere questo il caso di Giulia Delellis e Andrea Damante? I due ex sono stati avvistati insieme alcune ore fa da alcuni fan che, prontamente, hanno condiviso un video in rete. Scopriamo meglio cos'è successo e cosa ci facevano i, da Mellis, insieme. Giulia Delellis avvistata con Andrea Damante, ritorno di fiamma? Un utente di TikTok alcune ore fa ha condiviso un video che ha mandato in subbuglio il web. Giulia Delellis e Andrea Damante sono stati avvistati insieme mentre chiacchierano in un bar. I due sono stati tra le coppie più amate dal pubblico, che li ha visti innamorarsi nello studio di Uomini e Donne nel 2018. I due si erano riavvicinati durante il periodo della pandemia da Covid, ma poi si sono detti addio definitivamente. Qualcosa, però, sembrerebbe essere cambiato. Le immagini dei, da Mellis, il nome che hanno scelto i fan della coppia per i due ex di Uomini e Donne, stanno facendo il giro dei social. Il loro riavvicinamento sembra confermare un rumor che stava già circolando da qualche settimana. Di nuovo insieme? Ha scritto un utente di TikTok sotto al video che ritrae Giulia e Andrea seduti vicini intenti a chiacchierare a un tavolino di un bar. I due ex fidanzati sono una coppia nota al mondo del gossip, e ad oggi sarebbero di nuovo vicini. L'influencer romana era arrivata addirittura a scrivere in un libro di aver subito un tradimento. A confermare l'avvistamento ci ha pensato l'imprenditrice digitale, condividendo una Instagram story lo stesso giorno in cui indossa lo stesso top che è presente nel video andato virale su TikTok. Negli ultimi mesi entrambi hanno interrotto le loro storie d'amore rispettivamente con Carlo Gussalli Beretta, e Elisa Visari. L'influencer romana si sarebbe lasciata con il rampollo a causa di, un intervento della madre di lui, contraria a un loro possibile matrimonio, come ha raccontato il sito di gossip di Linger News. Anche per Andrea Damante la storia d'amore con la modella Elisa Visari è giunta al termine. Secondo le ultime indiscrezioni la ragazza avrebbe una relazione con l'ex naufrago dell'isola dei famosi Simone Susinna. Quando circolò una voce della separazione tra i due si era già iniziato a parlare di un ritorno di fiamma tra i due ex volti di uomini e donne, che ora sembra essere finalmente confermato.